finalmente si è arrivato eccolo qua milwaukee modello ma 887 un rifrattometro digitale per misurazioni di cloruro di sodio in acqua di mare ok un attimo che ci metto la batteria e andiamo a provare scusate perché c'è una mano sola allora bello in realtà molto bello più grande dal da come mi aspettavo accendiamolo e facciamo la la calibrazione batteria al 100 per cento e unità di misura in ppt ora andiamo a mettere qualche goccia di acqua osmotizzata all'interno del del sensore parton ok attendiamo qualche secondo se non da nessun messaggio di errore sul display andiamo a premere il tasto 0 per la taratura perfetto una volta fatto questo prendiamo un comunissimo tovagliolo e andiamo a rimuovere l'acqua assorbendo la semplicemente ecco qua pratico facile indolore ecco qua benissimo andiamo a raccogliere un campione di acqua da analizzare acqua che dovrò miscelare chiaramente quindi non è ancora acqua del mio acquario ok una volta messo lì proviamo il tasto di lettura 27 ppm quindi a quest'acqua dobbiamo aggiungere del sale per arrivare alla salinità desiderata per il mio acquario che è di 35 ppm ci vediamo tra pochissimo ok abbiamo riportato un po' i valori della della mia acqua di distribuzione a livello più ottimale io uso questo sale qui microbe 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 lift prendiamo il campione lo andiamo a mettere sul sensore ecco ho spanciato un poco poi e siamo sui 1.023 e siamo sui 1.023 anche 1.024 allora ragazzi parliamo un poco di questo aggeggio è un rifrattometro digitale come ho detto all'inizio video quindi uno strumento ottico basato sulla misurazione dell'indice di rifrazione per determinare appunto la salinità di acqua sostanzialmente è molto semplice da utilizzare è immediato soprattutto non richiede reagenti di alcun tipo solo una batteria una batteria da 9 volte il campione che si misurerà deve essere misurato però previa misurazione di una semplice calibrazione con acqua distillata osmotizzata e deionizzata ve l'ho fatto vedere poco fa come si calibra è una sciamenza ed è velocissimo e mi impegna solo pochissime gocce di acqua distillata osmotizzata è un modello con protezione IP65 e ha una compensazione automatica della temperatura si spegne dopo 3 minuti di inattività ok ma come avviene essenzialmente la misurazione? qui c'è una luce, un led in questo rifrattometro nell'MA887 la luce proveniente appunto da questo led passa attraverso un prisma a contatto con il campione quindi con il nostro liquido un sensore d'immagine determina l'angolo critico dove la luce appunto non viene, non passa più non viene più rifrattata poi dei particolari algoritmi che ci sono all'interno della scheda processano questa funzione e vi danno appunto il risultato il risultato della misurazione per concludere qualche specifica tecnica allora le scale sono ecco qua ora le vediamo dal vivo qua vi dice batteria al 100% il range quindi le scale le abbiamo in PSU che vanno da 0 a 50 in PPT da 0 a 150 e in SG da 1000 a 1114 è impostato su gradi centigradi ma si può cambiare anche in Fahrenheit ha un range da 0 a 80 gradi centigradi il led che apparirà qua sopra è di colore giallo il tempo di misurazione una volta messo l'applicativo pardon il liquido è premuto il tasto read è di circa un secondo un secondo e mezzo quanta soluzione? eh circa 100 microlitri dice il produttore e ora non è che andiamo a misurare i 100 microlitri va bene questa pipetta e insomma andate ad occhio ragazzi insomma il liquido deve arrivare circa questa circonferenza qui poco sotto non di più batteria da 9 volt questa batteria sempre il produttore dichiara dichiara circa 5000 letture dopo 3 minuti si spegne e ha un peso di 420 grammi volevo fare un'altra precisazione sull'ATC sulla compensazione della temperatura ovvero come vedete voi qua ha un termometro per il momento in cui voi mettete l'acqua e l'acqua ha diciamo spazia a una temperatura molto più alta rispetto a quella di compensazione basterà attendere attendere circa un minuto affinché non si verifichi l'equilibrio termico che vedete tra le due temperature e quindi la misurazione sarà ancora più attendibile poi se avete domande non lo so qualsiasi altro tipo di cosa scrivete nei commenti qui sotto e io vi risponderò il prima il prima possibile mettete un like e iscrivetevi al canale ciao